ci troviamo al teatro dell'angelo dove dopo una fortunata tournée durata quasi penso due anni no ecco approda appunto al teatro l'angelo qui a roma il bacio che vede protagonisti francesco branchetti e barbara de rossi e francesco marchetti anche in qualità di regista allora cos'è questo bacio raccontate il bacio racconta l'incontro tra due persone che avviene sulla panchina di un parco e racconta appunto la nascita di un sentimento è un viaggio interiore molto bello tra queste due persone che non si conoscono ma che sono due perfetti infelici e dalla diffidenza iniziale tra le piccole bugie di facciata che spesso le persone esprimono inizia poi invece un viaggio di verità attraverso le fragilità di tutti e due attraverso le e questo viaggio attraversa le loro paure le fragilità le insicurezze gli insuccessi sogni e le speranze è uno spettacolo molto tenero buffo pieno di candore e di sentimento e anche di qualche di qualche piccola infelicità che però è quella che appartiene a tutti gli esseri umani questo è il bacio tu sei la protagonista insieme con francesco noi siamo la signora e il signore 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 non hanno nome di battesimo barbara ha detto molto io aggiungo che è uno spettacolo è un testo è uno spettacolo in questi giorni mi è capitato spesso diciamo di rispondere a una domande che mettevano in relazione il nostro spettacolo con la comunicazione e mi è capitato di dire cosa che cosa penso io del diciamo dei social delle piattaforme della del web eccetera e trovo che questo sia uno spettacolo trovo che i social siano abbiano creato dei nuovi alfabeti delle nuove maniere diciamo di dialogare e senz'altro la tecnologia ha ha messo in contatto più facilmente le persone ma non credo che abbia aiutato a diciamo a comunicare meglio credo che il nostro sia uno spettacolo dove in un'epoca come la nostra che è dominata dalla paura dell'altro dello sconosciuto figuriamoci su una panchina in un bosco diciamo tutto dove ci sono tutte le caratteristiche per scappare nel senso che arriva uno sconosciuto e la donna se ne va e viceversa ecco questo credo sia uno spettacolo che racconta il secondo me l'atto più grosso di coraggio che ci può essere in questo momento nella nella nostra epoca è che è la fiducia cioè la capacità diciamo di avvicinare l'altro e di fidarsi no dell'altro di affidarsi nel senso letterale del termine e credo credo che veramente la fiducia sia l'unico vero atto di coraggio dell'epoca contemporanea e credo che anche il tipo di dialogo il tipo di passaggi che l'uomo e la donna fanno in questo testo raccontano di una comunicazione meno superficiale meno da da messa in contatto ecco meno da meno da social e magari più profonda e credo che questo al pubblico che ci ha seguiti sono in questi due anni sia arrivata questa nostalgia di una comunicazione più profonda di un'altra comunicazione a quella che magari è un'estrema facilità di entrare in contatto con chiunque che prima delle computer prima di internet era impossibile però forse era più questa difficoltà questa questi ostacoli da superare rendevano la comunicazione più profonda e più e più vera ecco non come l'antico artigianato adesso un famosissimo montatore ha detto non è possibile che nasca adesso un grande montatore perché noi tagliavamo facevamo tante di quelle cose adesso c'è il programmino avid che già ci dà le soluzioni dice vuoi la tre vuoi la quattro vuoi la cinque le tre ipotesi di no volte le difficoltà il cammino impervio no anche nella nel rapporto tra tra gli esseri umani può essere fonte di una maggiore verità una maggiore solidità di di un qualcosa questo spettacolo il pubblico torna un po riflettere perché si torna un po al sentimento all'amore che oggi si torna diciamo si torna anche questo sicuramente il romanticismo con cui vengono affrontati romanticismo nel senso bello nel senso bello del termine si è profondamente perso in nome di una non ho capito mai bene ma anche di un atteggiamento di diciamo di così di ostentata sicurezza sicuramente ci sono dei vocabolari nuovi una sintesi estrema no una ci sono dei 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 gerghi nuovi di comunicazione che la diciamo la la tastiera ha creato credo che questo tipo di di rapporto così semplice l'incontro il io dico spesso tante cose andrebbero recuperate il senso della curiosità il senso della sorpresa il senso dell'attesa di un di un qualcosa il senso della fatica per raggiungere un qualcosa tantissime stadi che precedono l'avere un qualcosa erano il senso profondo di quel qualcosa ecco adesso subito si e magari avendolo tutto e subito si rivela molto molto etereo inconsistente ecco non credo che questo spettacolo sia uno spettacolo sulla magari sulle difficoltà magari sul sugli orgogli sul che devono un sentimento che nasce affronta tantissimi ostacoli credo che tutti questi ostacoli siano la vita che sia estremamente denso di 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 vita questo spettacolo questo credo sia la cosa altrimenti invece facendo un parallelo diciamo personale ricordate visto si parla di bacio il tuo primo bacio e il tuo primo bacio il mio primo bacio è stato buffissimo perché in realtà io sono scappata per dei chilometri prima di ricordo queste corse infernali perché il imbarazzo era profondissimo non era solo l'esperienza ma c'era veramente un profondo imbarazzo e anche un una una paura di inadeguatezza per cui tutto era mischiato io mi ricordo solo delle grandi corse delle grandi corse che sono poi terminate con veramente con un bacino castissimo si castissimo proprio da un buon compleanno di quelli proprio fatti così e lo ricordo insomma con molta tenerezza perché ho baciato anche abbastanza tardi ecco avrà avuto un 15 anni e mezzo 16 adesso so che i ragazzi sono molto più forse le nostre generazioni erano un pochino più tardi in questo sì penso che a 11 12 anni già già e quindi lo ricordo con molta tenerezza si a rimini invece nel mio caso parla solo di inadeguatezza diciamo mi fermerei alla parola che ha detto nettamente non non aggiungerei altro ecco perché la gente il pubblico dovrebbe venire a vedere questo spettacolo perché è incuriosito perché si parla d'amore perché il bacio del stesso titolo perché secondo me perché perché è uno spettacolo che è uno spettacolo di sostanza e non è uno è uno spettacolo però dove si ride si sorride dove c'è una grande ironia e qualsiasi argomento viene affrontato che possa parlare di anche infelicità di incertezze di paure o di fragilità e proprio per come l'ha scritto Gertese attraversato da una da una vena così ironica e leggera che rende tutto molto più semplice quindi è uno spettacolo fruibile nel senso che può appartenere a tutti molti si possono riconoscere in quello che accade ed è anche tenero buffo e divertente sostanzialmente per lo stesso motivo lo esprimerei con parole diverse perché mostra due personaggi sostanzialmente molto normali e dalle normali infelicità frustrazioni eccetera e mostra però come da questi due personaggi diciamo forse vuoi non voglio dire anonimi anche nel particolar modo nel caso del personaggio della donna ecco mostra come siano a volte depositare come se avessero un sacco no un sacco pieno di cose belle dell'eco e alle volte e alle volte la vita in particolar modo la vita di adesso lascia nel sacco le cose belle non mostra non 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 dà la possibilità a magari a tanta gente che magari ha un sacco pieno di cose belle da dare agli altri ma rimangono nel sacco perché non c'è questa occasione di dice io avrei delle cose ma non non ecco questo è uno spettacolo invece dove si incontra un uomo e una donna che hanno nel un sacco sulle spalle con delle cose belle e hanno la possibilità si danno la possibilità di di regalarsi qualcosa di regalarsi una una tranche di vita insieme diversa magari anche solo una tranche però è già molto è già è già molto questo secondo me è uno dei motivi per venire a vedere lo spettacolo e rimane fino al teatro dell'angelo fino al 15 aprile fino a domenica 15 aprile dopo di che proseguirà ancora qualche altra data alcuna da qualche data della tournée in calabria e termineremo la tournée al teatro europa di aprilia il 28 di aprile intanto diamo gli appuntamenti invitiamo il pubblico a venire al teatro dell'angelo vi aspettiamo al teatro dell'angelo fino a domenica domenica poveridiana alle 21 al teatro dell'angelo il nostro bacio e poi per chi abita diciamo per i laziali chi abita nel lazio ad aprilia il 28 aprile che è anche divertente il 28 aprile ad aprilia e sarà l'ultima data della nostra tournée vi aspettiamo vi aspettiamo